Allora 1954 io sono partito per l'Australia, avevo 18 anni e dopo c'era via mio fratello e insomma subito lavoro, c'era il lavoro allora e dopo sono stati su per Cuma, creano una fuoricini a 300.000 tassini e dopo su per la strada che va su tra mezza Cuma e la va su montagna, così altro. Lì hanno fatto tanti cantieri, insomma genovesi, australiani, italiani, via dicendo. E perché allora qua in Italia, diciamo Cagnò, non c'era niente, c'era zero via zero. Sì insomma c'era lavoro in campagna, ma sì non c'era niente il via delle frutta, tutto quanto. E allora tutto c'era andare all'estero, bisognava andare. Allora mio fratello mi ha chiamato e via. Nostradia non ne avevo, poca, poca, poca. Sì sì. Perché qua che sono partito è venuto mio papà e mio fratello a Genova che dopo il Paternostro Massimo ci ha portati giù a Trento per tappare il treno. La sera dalle dieci e mezza mi sembra che ci sia stato e da lì sono partito con la nave dalle otto la domanda, la mattina, dalle otto. E dopo su questo faccio a solda nasce, ciao, ciao, un pochettino di rincresciamento, c'era bene, c'era qualcosa. Però non era proprio che mi dava tanto peso, no. Andavo via e via un mese di mare, senza, senza sapere dove andavo. Ero io solo sulla nave, solo, era su mille persone, no. Però guardavo se c'era qualche, qualche trentino, così, così, niente da fare, no. E avevo diciotto anni. Non sono come quelli l'hanno che hanno 16 o 15 o 14, no. Non c'era, proprio, non c'era niente neanche di la nostra favela, no. Non si poteva fare niente, no. Allora era il momento di andare. Chi è andato in America, chi è andato in Australia. E sì. Insomma, sì, si decide, io andare un in un posto o un quell'altro. Mio fratello abitava a Kuma, che è lungo la strada. E da lì c'era, beh, che andiamo a, insomma, ormai c'era, come dire, indrumentati, no. Non era perché non c'era capace di far questo o non di far quello, no. Però c'era che, non c'era quella presenza di ultimare un discorso, no. Mimbo, e in altri si partiva con questo tema, io l'indirizzo e basta. Non c'era mia, corre da buona gente, ma quello, no. Sebbene che l'era le prime armi arrivati, le prime armi sul cantiere, era buona gente. Sì, l'era ormai una cosa più, più leggera. Invece buttare i soldi, incominciare la nave, incominciare a lavorare, sarebbe stato più brutto. E allora, avendo io un parente, è tutta un'altra cosa, no. Sì, insomma, dopo tutto sommato, abbiamo, ho passato un bel tempo, undici anni, da via, senza venire. Non è che mi mancava qualche cosa, no. Ho voluto venire a trovare mia mamma, almeno, no, perché mio papà l'ho perso, è al 60, no. Allora, almeno, vado a trovarmi mamma e basta. E da lì sono arrivato, non più, non sono più rientrato. Sì, sapete come hai fatto a imparare l'americano quando sei... Parla forte perché mi senti a sentirmi. Quando, come hai fatto a imparare la lingua del posto? Oh, l'inglese interprete. Interprete. E dopo mi sono stufato a dire sempre il mio peccato, no. E sono andato dove non c'era nemmeno un italiano a lavorare. Sono andato dove lavorano nel latte. E lì, e lì ho dovuto cominciare a capire che vuol dire prendere su, portare da destra, portare a sinistra il materiale. Allora, io dovevo proprio imparare l'inglese. Insomma, e allora, quando ho visto che bisogna difendermi da me, porta, Allora, sono ritornato ancora sui vecchi monti, sui vecchi monti. Andavamo nel fruit shop. Allora si andavano dove c'era la carne, dove c'era l'iscialata, dove c'era tante cose per mangiare, no. Ecco, e dopo Pampianino abbiamo trovato la farina per la polenza. Pampianino. Perché continuiamo a dirgli. Guarda, mi vuole... Noi capivano lì la polenza, no? In quel tempio lì, no. Allora che mostro le parole, che vado nel trasfogolare, no? E dopo io volivo l'acqua, che dicevano... E dopo ritrovano la farina e veniva una bella polenza, insomma, una mosa. Lui caccolava mosa, no? E dopo Pampianino, forza, farla, farla, farla. E ho capito che anche nei negozi, come dir via lì, mi ha portato. E andavo a vedere dove c'era questa farina da polenza. Dopo è diventato un italiano. Però, se stanno le prime armi, no? Da che corre lì. Dopo il mare erano tutti sparsi su per la montagna, un cantiere, l'altro su che l'altro. Dopo la domenica mi trovavo. Mi sentivo il fumo della polenza. Dopo noi abbiamo il cugnato e tutto. C'è stato un altro vivero del mondo, no? Fava la polenza, fava questo. E tutto, come... E tante, se vedevano a Liraira, non c'è da farla. Hai fatto amicizie importanti? Con tanti ne ho fatte. Trevisani, calabresi, Ogg, nera, dentro. Gli erano tanti dodesti, anzi, aveva. Davide. Insomma, era una vita che era dura da per tutti gli Europa. Non solamente in Italia, no? Tentavano tutti in Italia all'estero. E allora si buttava chi in America e chi in Australia, insomma. Ma si, insomma, me ne è fatta la nostra vita. Mi non ho mai più questione. Ma il più tempo in Italia chi chiede via. Dopo questo anno. Sì, c'era la gente, insomma, due o tre da pavir che lavoravano insieme. E dopo, dopo che era qui anche il ciali, il giacinto, a Ciacchiei e morti, no? E quelli erano proprio di cagnò. E quelli fanno proprio dormire e da mangiare per tutti. Che sarebbe come Bordinhaus, no? Oggi scrive, sì. A me se mi ha proprio nadi e del metri al tutti, no? No, 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 no. E la cagnola c'era. In Ghinera, sì. Ghera via Trevisane, Ghera via Purlane, Ghera via... Oh, Ghinera via. Però no, non ne menavano. Lo sai perché? Sempre stacco con gli amici e via dicendo. si vede che proprio il destino era da ritornare. E dopo la famiglia un pochettino e un pochettino sotto e allora le fermo. Sino ero di partire questa volta. E dopo se ne ha di su sui similiere la similiere trova una cento metri di alta come è stata larga dal fonte e su 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 e dopo i cagli la fava piombo e fava si. paura? No, no, non Ghinera paura allora. Paura non Ghinera no. Gli era paura di trovare lavoro no. In che tempi io no. La via. Se guardava a fare il meglio possibile no. ma. Edesca che sono la via del 2003 o che che l'està me neudi ma porta su ma me n'ha di su se n'ha di su col col pulman e se n'ha di avere tutti i posti ma sì a insomma ma ne ha tempo a la nostra aventura deve dire che si cita si fa la sua aventura ma la nostra è l'aventura di lavoro proprio e anche c'è qualche birra però loro non bevano birra dopo un domani bevano alcol no. Però meno gli auguri la vita che fanno noi no. Perché non c'è più la roba da verta di andare all'estero a lavorare sì che sa cacca che un via ma allora c'era navi che partiva da Genova tutta l'Europa allora che dite mamma se siamo in nel 1960 mi ho reclamato mia sorella e mia cugnata Sini dopo sei mesi sono a Trieste fanno una visita stanno due dì che stanno una visita degli australiani dopo altri tre mesi mi ho dato il via su una particola nave sono arrivato al crompano baule via il siler e mi ho messo in cate strase e mi avevano due giorni a soldi da pagare le strase a genova con la nave con la roma e sono partito di sono fatto il canale dei suez e mi metto 20 anni per arrivare in australia e come dico prima il mare era buraccia e metà i maiavano e mi maiavano come lupo perché erano 20 anni e favo polastri in Italia ma ma e dopo sono arrivati a Sinia il 28 mi parla di Zuni e c'era un mio cugnano che mi aspettava sono arrivato senza una lira non avevo soldi e non avevo donare allora il mio cugnano mi ha portato su una strasella tram e c'era il baule di sua c'era sua che era vicino a Sinia a Villavut il paese clamava che là a Villavut c'era un hostel dei migranti Gerasio è un grande ha fatto due capanoni della guerra dei americani dormiva io italiani e io il dì dopo ho cominciato a laureare subito a Sinia che si è andato a laureare per il vodabot la ditta che fa le fogne dure per Sinia e io piccola e demolitor che non ho mai visto demolitor non mi veniva frossando le mani e fa sei mesi a Sinia e io era a 40 gradi in ciao 45 e ha detto se c'era sin terra n'avevo i capelli in Italia perché non c'era H da bene se sta molto male dopo sei mesi un decano Pierino e mi ha clamato a Newcastle a 200 miglia a lavorare su tui ponti messi ai boschi che mi plageeva il boschi e se nascono le baracche della mira tutta la mira io e bevevo un lacca che mi va da covert la sapale nel bode fora no e io fa vende ore al dì per sei mesi non era luce negono con la candela e a far da mai oggi vengono a fare a gasolio primus e ma anche che si poteva e dopo era dura la vita non è come in italia che se dopo da io non è Napoli hai cambiato lavoro nella centrale elettrica e io lavoravo all'agostino e il posto era Valle Spogne mi ricordi sempre centrale Valle Spogne e la mi metto sulla ciminiera insieme a con la laureare che sta di su 14 mesi e si fava bei soldi anche perché si lavorava tante ore si sa pav autessa e io si lavorava si dormiva l'anticampo c'era io due trecento per e se mangiava che ti dava e la notte dormiva e aveva sentito l'osilo perché erano tutte muscoline le zanzare che mangiava io un botto al mesco da vaso un da centrale erano sempre morti e paura non c'è io e nel frattem n'ave su a Newcastle che era 50 chilometri 50 miglia che c'era Susenda Cagnon il Pedri Gino Gabriele se conoscevo la Gina che tuttora c'è via adesso e io ero divertivo domenica sera erano a Balarca e dopo un anno se ci andiamo sui ponti per central costrazione si chiamava e io ho fatto la femma insomma c'è un battesimo dei amici furlani e era la mia femma parli del 61 e questa putella mi sentiva a guardarmi e mi guardavo e la mamma mi detto questa putella veniva a casa nostra a trovarmi un giorno e era l'agostino e dopo mes due si andavano a dei preti perché erano i preti italiani per trovarsi italiani e favo messa dove metteva una coerta e favo ballo e io mi ricordo di che era l'agostino hai vinto una torta alla lotteria e non serve indottare questa torta e ora già l'hai data a questa furlana la di so la mamma che era furla vengono a trovarmi domenica che la mangiamo assieme e so sta là e dopo è amorosa due anni se sta insieme e dopo io compagni è sempre laureato centrale elettrico o ponte in giro sempre in giro nei boschi e dopo mi si sposà questa mia femma io l'ho trovata mi si sposà mi si compagnacciasse dopo Cateranica in Australia una macchina nuova tutto debiti soldi non ginevi e la dice tanto se non c'è una valissa indebitata da ci si vengono in cadi e io tutti c'ampi no e budo i fiori la via dopo io tuttora dieci no mi senti a tancia ben dopo sposato mi stavo più bene perché mi favo da maniare e lavavo le strase no e se no sempre su lavoro duro perché guarda che se era meglio in Italia dopo se non cammi dal 77 se stava meglio ci che la via per lavoro lavoro generata sempre lavorare però 8 ore al di non mai stanno bene e anche a plan zoom in Australia perché lavoravo la notte nadale laurami siccome le ferriere da nadale le frabbi ce le c'erava gli australiani avevano ferie e gli italiani avevano a fare manutenzione lavoravo come gli asni insomma la vita era molto dura io per me e dopo ultimamente mi ho venduto una casa mi ho fatto un'altra due anni mi ho messo a fare la me sabato domenica stavo come suro e dopo l'ho venduto in cacchera per andare in italia perché mi avevi strano in italia dei sintieri e e allora adesso senti con tre fiori nel buon alto san luca e sta benone insomma e dopo questo problema che mi c'era 60 cata che mi sono sposato avevo mia mamma papà e i fratelli e mi scrive via che mia mamma moriva insomma se vuoi vederla ora però avevo appena rompato la casa la macchina sposato avevo soldi a dire che mia mamma non l'hai più vista e io sto brutto e dopo io mi pare dopo sono cancela 65 65 mesi con la mia femma e mi colpo eserà più o meno in frioli per le furlane a me e tutta in sila se non via se stavamo un po' di anni e non sono cazzo insomma lo faccio adesso in c però sto meglio in Italia che la via mi perché la via bisogna pagare l'ospedale pagare le scuole pagare tutto c'era tanto lavoro veramente lavoro dappertutto la fam non l'Australia perché c'era da mangiare dopo l'evers però se sta tra l'ese uguale per tutti la via perché domandai prestiti per comprare la cazza me l'ha sempre dati perché le banche le dava più soldi agli migranti che agli australiani perché l'immigrante sparagnava e pagava i suoi debiti no invece sì insomma perché era entrata di bene la legge è uguale per tutti poveri e siori la via e adesso ti vengono strani se non cambi a me mi piace di dire la verità non mi lamenti la via mai patti fam veramente mai beuse e divertì perché piaceva nella ciazza peste eri sempre in zero sei mesi in italia come dia in ferie perché laureava di ora al di sempre mi fa la via per vada una lira in i boschi fanno venire la domanda alla sera con la mamma vengono le barelle sui ponti non c'era e le baracche sentivano i rumori sotto al pavimento che si avevano le pangiane e poi i serpenti la notte dove mi diceva e a volte andavo in ferie con la fama il mio cugnano in tenda stava in tre caterdino in zero la tenda io ho traslato il sale in zero perché c'era le zecce c'era sanghete serpenti allora salavano tutta l'erba in zero che non non c'era sotto la tenda bestia bei tempi ma c'era zoni che sia dal sud c'era spagnoli tanti spagnoli c'era portoghesi ma tanto amico dei portoghesi era spagnoli molto brava gente e lavoratori forse e sinceri tuttora già abbiamo tre nevo di mila via che c'era per via della mia femma però mamma e papà sono morti zoni dove andare a tarli in botolato di sempre domando mamma già in po' da paura ero plan all'anziro invece la mia femma stava via tra i botti e andava via quando stava bene perché era purtroppo malata laureava un negozio di frutta e verdura sempre laurea però era andava via da sei anni la fa tutte le scuole la via dalla prima fin l'inglese era sul madrelingua la parlava il furlan la parlava il non la parlava l'italiano e non la studia ancora non la parlava solo l'inglese era una persona molto brava tutti precisi tutti precisi perché c'era la stessa barca guarda che sia napoletani o giuda tutti bravi raramente che guarda mia lavorava con tutte le rasse e ho fatto anche il caposquadra un po' di tempo portoghese spagnoli italiani inglesi e noi erano più migranti più ben visti sul lavoro che australiani perché noi lavoravamo il depo allora loro fanno le 40 ore e se ne frea noi sono stati via per vada andare per scampare e allora mi è sempre lavorava per dita italiana la più grossa era la transfil se tu parlare forse era una dita più grossa che nostra italiana perché la fava centrale elettriche ponti la fava anche aeroplani la fava la avevamo con la laura mi pare che l'ha fatta il tunnel sotto al ponte sinini a questa dita italiana era l'epitì perché le dita italiane fanno spure e leggeva tutti i campi i boschi leggeva i campi e fava tante ore allora era bello giravamo la sterlina allora dopo null' euro e il dollaro ma quando si aveva mi gira le sterline 15 6 sterline una settimana mi pare per in tempo perché la paia la via ogni settimana non le messe in mente no si sapeva belle paie ma già quando si lavorava sulla ciminiera che era 100 metri alta 300 piedi si diceva io si sapeva non c'era autessa no più autica non vengono più soldi si sapeva si stava bene insomma però mi non vedi i nostri zoni andare via a fare che lavora che fanno gli altri no sicuro sicuro no stiamperò subito alle vendure no mi candida a non e se fa la balla tutti di dole erano da Campodeno ero in tanto campo messo ai boschi e sento uno che blestemava per non es perdono gente che blestemava e mi tirò da zine da scuote blestemava era rabioso no e mi poi dopo l'ha fatta il mio compagno da matrimonio sto da oliva certo da Campodeno e sono sempre stato insieme amici adesso abbiamo già tre fioi e mi pare che uno fiole fa il bodyguard per un attore grande in un gradiatore la persona abbastanza sto da oliva e guarda che mi si sposati e gli ho do i popi sempre insieme e ven a sentir che i nonni si mi attavano come giattare signore di ho detto a parlare nonni scherzo erano tutte le lingue ma nonni che lì ho giattato l'agostino dopo e dopo le feste proprio grande e cantare in zone avevano so signi che contrade e io giattare qualche dun se ben po dopo qualche mese che ero su i boschi se andava a sfogarsi a cini c'era il club italiano ma avevano un po' di spaghetti e dopo la sera c'era un po' di movimento insomma no e dopo tornavano andendo al bosco magari senza soldi perché perché avvenzò bella vita e sì lei cini bellissima la giravi tutta con la macchina 1100 ve tolla via giravi tu cini magari sbagliavi strada scettavi girare ma avevi 21 22 il ponte cini le traversava pettante botte l'opera ero se non dobbia vedere io e l'ad era l'una park ricordate questo e la mia tavola combinavano tutte no botte ogni tanzas dopo sposato se ben questo frenare no ma se no hanno fatto bella vita bella vita tant lavoro se no mi la macchina sempre bulle macchine la via non gli era problem con parte una macchina no di imprespo arate la benzina costava pochi via in pastibosti e mia l'avevi sempre a cassa poi in pari bosti quanti potevi a pesciare comunque hai cambiato tre hai fatto una due tre ciasemi sì che hai fatto una lei nuova l'hai venduta che non mi piaceva al posto dopo ne rompavo una vecchina l'hai battuta da zona e fatto un'altra da due piani dopo vengono una cacchella e sono cì nati tutti due la via cacchina un'altra cacchina un'altra cacchina adesso tornerò mai in rive che non già strani della via uno sta via a fare un zero per un par dei mesi però loro non è che si ricordano ma c'è ciao perché io nonno dormo non c'è non andavo lavorare la domanda avvisò a dormire spiaggia magari infine le cate la domanda sapavi la macchina andavi lavorare favi cento chilometri non potevi dormire a casa almeno che eri miei cialuri e ogni tanto bella roba cantagliera che dicono che era festa nazionale che noi lavoraves sapavi la macchina e partivi con la moglie popina la trova qualche d'uno o c'è in tenda io e come potevi mi tiravo in i borsi vorrebbe tornare giù eh vorresti tornare giù per trovare giù per trovare amici sì per quello sì vorrei trovare non che nostalgia dell'Australia per trovare tanti amici con la settola perché io tutta la maggiore ho passato in Australia da vent' anni a trentasette anni so per stare là conosco tutto e tutti gli amici e adesso qualcuno non c'era anche più no lavoratori tutti tantissimi spero di tornare ancora un giorno ma un po' di paura so parecchio così la vita mi so stanno un po' una farm di banane perché i cugini di mia moglie avevano una farm di banane a Corsaba si chiama vicino a Brisbane e ogni tanto andavo su stavo la due tre giorni e mi piaceva perché tutte sti banane come ci pomari tutte banane banane e l'estate inverno le banane venivano sempre e taglia tutte le semane che stai inverno la banane la va sempre solo che l'inverno li metteva su un sacchetto sulla fare delle banane per un po' freddo per fare le più mature e se non si tagliava sempre mi piaceva andare là e la vita australiana però è cagnone come tutti è più che un che vuole venire qua nel suo paese vai noi puoi venire qua dimmi c'è tante gente la via che vorrebbero venire qua nel suo paese però non possono perché c'è i fili grandi o a sposare una della zona la via o deve venire solo lasciare la famiglia perché tutti vedi che appena che possono vengono qua che sia dall'America o dall'Australia vengono quante il suo paese specialmente gli americani che ti dicono l'America è qua in Italia non è l'America non è c'è l'America bene eh sì no ti chiedi spettata Alla domanda lei, hai paura? Guarda, tu nono non c'era via, vedete? Poi te laurava duro quel, ma la mia laurava. E non soffriva il caldo quel, continuava a laurare. E mi soffrivo il caldo, no? Guarda che il caldo di Bati, è anche caldo umido. Sudava anche senza laurare la via. Devi fare il bagno tutti i giorni, due volte al giorno, sempre sudare. Beve qualche birra e non fava bene. Però mi sono in una via del 60, con la casa. Almeno tutte le case avevano il bagno, la doccia e la via. Qua in Italia non erano chi aveva il bagno a casa. Quando sono partimi, una doccia che aveva, poca, le case, no? La via per casa in legno, brutta che le sia, tutte aveva la doccia e il bagno. Su quella parte là, erano più avanti di qua. Per me, insomma, qua il bagno, dove era la casa? Sì, la doccia. A 32 anni, non pensavo neanche alla mia vita, non pensavo più alla famiglia. Era una vita, insomma, la gioventura è stata piuttosto alti e bassi. Dopo, a 32 anni, ho preso posto all'ospedale. No, a 20 anni ho preso posto all'ospedale. Sono stata a 12 anni e sono andata avanti con quella che dopo mi madura un po' la pensione, così, pian piano, no? Invece, un giorno, c'era la festa, mia cognata mi ha detto, vieni che andiamo alla festa. Un canino, vado intorno alle feste qua. E c'era la festa di San Valentino. Mi ha tirata dentro, aveva qua dei parenti. e si parla e va e tutto quanto, insomma, tra il bar e tutto quanto, ho conosciuto il ragazzo. Era appena arrivato dall'Australia, per l'era quattro anni che si trovava, e è venuto perché voleva sposarsi per dopo ritornare via, per il motivo che qua la famiglia era povera e perciò non aveva niente da farlo. Ma mia, in un momento, tutto in un momento, anche se avevo la mia età, mi sono, ho rifiutato perché di, come farmi andare in Australia con la famiglia, perché sono sempre stata attaccata dalla famiglia. Ho sempre deciso di farmi una famiglia in Italia, non via. E allora è passato un mese, abbiamo aspettato, giovedì, vada che è un bravo ragazzo, mettiti a posto, e la mamma ha cominciato a rassegnarsi. E allora, dopo un mese, abbiamo preparato per sposarci, anche per tre mesi. E allora, dopo ho fatto le nozze qua a Cagnon, e poi siamo andati a Trieste per portare le carte, a fare i documenti, tutto quanto. E dopo abbiamo preso, siamo andati a Genova, preso la nave, la Lord Triestino, e un amico che ci hanno portati. E siamo arrivati, e c'è un mese, insomma, di nave. Ma io ho visto tutte perché ero rimasta incinta di quella lì. e me l'ha fatta vedere tutte. Un mare, un mese di mare, che non ero più capace di stare in piedi, no? Proprio il mare mi ha fatto male, ma comunque bisognava reagire e andare avanti. Lui era disperato perché pensava che ci fosse che non va, invece il dottore gli ha detto, vada che è incinta, non c'è niente di grave. Sì che dopo un mese, il 29 di novembre, proprio cominciava il caldo in Australia. Siamo arrivati. Il primo tempo, perché in Australia, in Nansini, è venuto mio cognato a prenderci, perché loro erano via. E si erano portati a Cardiff, perché loro abitavano lì. E per quattro settimane siamo stati insieme, avevamo appena finito la scasa. E stanno qui, ma mia, era appena soluzione. Che dopo quattro settimane, ho detto, andiamo da qualche altra parte, perché io non volevo disturbare di più. E siamo andati in un garage di quelli, di alluminio lì. Ma c'era poco servizio, un letto, proprio di quelli miseri. E ci erano stati tre mesi in caldo, che bisogna buttare l'acqua per rifrescare. Finalmente, dopo pian piano, dopo tre mesi, io dovevo andare avanti con la gravidanza, perché non potevo stare in un garage. Abbiamo trovato una casa. Era su una strada bella, bellissima, perché non era proprio principale. Avevo l'autobus, che andava da un paese alla città, tutto quanto. Però io ho cominciato a tremare, perché la lingua era terribile. E dopo c'era la casa, ma era vecchia. C'era un bel pezzo di terra. E ho detto, lo prendiamo. E poi alla volta lo mettiamo a posto. Sì che è per fortuna che mio marito è cominciato la prima settimana a lavorare. La prima paga, comincio a fare le spese, tutto quanto. Era dura. E dopo, per fortuna, che dopo io sono stata bene, che sono sempre andata avanti bene. E c'era un'amica via che veniva a trovarmi, una qua del paese, che era dietro la famiglia. E allora qualche volta, insomma, potevo... Perché erano tutti australiani, da una parte e anche dall'altra. Però c'era gente speciale, perché se avevo bisogno venivano. Ma non potevo spiegarmi, non potevo parlare, era difficile. E dopo, un po' la lotta, abbiamo incominciato a mettere a posto questa casa. E paga il viaggio per venire qua, perché quello non era ancora da pagare. Prendi il mutuo per incominciare a far forno a casa. E insomma siamo andati avanti. Ma l'ho vista dura, per il motivo che non potevo spiegarmi, non potevo parlare, non potevo sentire chi diceva. Bisognava andare a vedere la gente, ma quando era la gente non potevo muovermi, perché ero in questa città. E così siamo stati via per otto anni, tiraciglia. Dopo è nata la seconda figlia, perché sono nata tutti e due la via. Insomma, un po' la volta, pian piano, mi sono messi incesti. Dopo otto anni, ha trovato l'occasione di vendere la casa a un italiano, perché ha detto io adesso andiamo in via. Ma siccome la casa è anche vecchia, aveva premura perché magari dopo non cambiasse l'idea, la paga l'ha fatta poco, sì, il prezzo l'ha fatto piuttosto basso. E ora si è trovato, dire, con questi soldi che non possono andare via, perché come a me fossero troppo pochi. Allora, ho operato un'altra casa nuova. E lì siamo stati due anni. Le bambine andavano a scuola, mi hanno fatto la prima e la seconda. E quando è stato due anni, una mattina mi ha detto andiamo in via perché io sono stanca. Perché la partiva la mattina dalle cinque, veniva alle sei di sera. E quando faceva il doppio turno, veniva da mezzanotte. Era terribile, perché tante volte era proprio pesante. E da quella mattina ancora incominciare, sì che per otto anni era stata una vita piuttosto di star passata. E che farlo? Sottendo bracci, bisognava andare avanti. Non era nessun altro. E allora, dopo, sono stanco, io vado in via. Perché anche per il mangiare, devo preparare il mangiare per portarsi dietro, perché sennò non mangiava niente. Preparare la carne, preparare la minestra di verdure, una roba niente. E allora, insomma, i strapazzi che l'ha fatto, tutto quanto. Perché lui voleva, voleva arrivare per potersi mettere a posto in Italia. Ma anche in Italia abbiamo trovato poco dopo. E quando siamo venuti, cercavamo un terreno per poter pavviccare e non l'abbiamo trovato. Siamo stati anche qua quattro mesi, quattro anni in affitto. Dopo, pian piano, abbiamo trovato questa. Ma anche questa era le stesse condizioni di quella dell'Australia, che era qua, chiusa. E si che incomincia anche qua, prendi fuori il mutuo, vai avanti e fa la... Come quella è venuta, perché dopo anche, pian piano, pian piano, un po' attraverso l'altro, ci ho strapassato ed ero 87 e mi è morta. E allora, per fortuna, che sono sempre stata abbastanza bene e anche la via, col clima e con tutto, non potevo alimentarmi perché era... E anche con le persone, ma la lingua le sta un terribile. E infatti, così siamo venuti. L'ambiente, la via, per dire, era caldo, molto caldo. E dopo, anche riguardo alle persone e tutto quanto, era brava gente. Non si poteva spiegare. Tante volte mi era mia amica, mi portava tanto di carta da leggere la parola. Per poterla pronunciare. Perché tante volte mi venivano in casa, mi parlavano, ma non potevo rispondere. E allora non era un disastro, perché non ero mai arrivata. E anche allora, quando è andata a scuola, no... E appara poco, perché a 7-8 anni siamo ritornati, no? E allora, no... Lavorava nella trasfit, cioè dentro, docchiere e acciaierie, manovale e muratore, insomma. Era pesante il lavoro, insomma, tanto. Perché tante volte era solo la domenica a casa, lavorava anche il sabato. E se no, quando andava a pescare, o pesca, o caccia. Guarda, non c'era niente altro. Non è che si andava tanto in giro. E era bene un bel po' lontano, insomma. Andava con la macchina, sì. Il paese era lontano, insomma. Partiva le 5 la mattina, le 6. Ma quando approfittava per fare la doppia, tante volte quando c'era, per poter accumulare in fretta, per poter venire qua. Ormai bisognava aspettare gli anni inutili. Tiene un anno non si poteva farlo. Se che tiene 8 anni, non si è arrivato a fare ancora poco. Come dico, sono troppo pochi, non andiamo, aspettiamo. Ma dopo aspettare ancora due anni, comunque siamo arrivati a fare qualcosa, ecco. La capitanza era in passata, insomma, dai, in principio, quando sono arrivata, siccome era caldo e non conoscevo, ho fatto un po' di strapazio e ero diventata piuttosto gonfia, grossa. E dopo, anche col mangiare, bisognava andare a mangiare poco, ma io avevo fame e sono arrivata 15 giorni prima in ospedale, perché la bambina era piuttosto in pericolo e hanno dovuto farmi stare per 15 giorni, fermo a letto, perché finché nasceva la bambina e tutto quanto. e dopo è andata bene. Invece la seconda è andata sempre in occhi a corte. Ma quella lì, dato che è stata tutta sbalortata dal viaggio che ho fatto, la via per andare per mare, dopo ne ho risentito un bel po'. Però dopo sono sempre stata bene, non ho avuto nessuno. E con la seconda invece è andata benissimo. in tac e tac, quando è andata. E dopo sono, malattie non ne ho avuto, anche mio marito è sempre stato bene, per me è venuto fuori che bisognava lavorare, insomma, io non potevo andare ad aiutarlo, perché andare a lavorare bisognava saper parlare e perciò non ho fatto tutto. E allora non ho sempre stato a casa e fare i mestieri. Ne avevo una volta una settimana in città dove c'era sto qui per fare questa provista. E dopo vicino avevo un negozio piccolo se mi mancava la roba ogni tanto mi andavo quella lì che aveva sei anni con un biglietto. E per un bigliettino come che potevo meglio in ospedivo perché abitavo proprio sulla strada senza attraversare, dritta le case perché l'era tutta casa tutta la strada. Io abitavo in Cimala, ero anche abbastanza comoda. Dopo, tante volte anche con l'autobus avevo vergogna e piuttosto andavo a piedi e per quei neanche perché l'era piuttosto sanita. Prendi l'autobus dare il trascenso a me non mi le rispetti io avevo vergogna perché non si avevo parlato perché era sempre quelle solite parole sorry, scusa, please, e se no dicevo tecchio, no spieghi inglese che che fai? a me, non ero buono di fricolata? No, no, è stata dura, dura, neanche per dire non è che anche in tre anni si abbia imparato tanto. Parlava qualcosa mio marito insomma non era mia propria cosa ma perciò ce la spiegava di più, no? Se proprio se era in negozi anche ai supermercati sapeva la spesa se veniva fuori se pagava e non era da fanno a parlare perché se vedeva che era ma ce ne ria sapevo tutti i nomi mi aveva abituata a domandare il pezzo se andavo in banca facevo il biglietto ma se era da fare una conversazione qualcosa bisogna sempre chiedere qualche domenica e allora c'era questa chi che mi aiutava ogni tanto veniva anche mia cognata che lei lavorava e perciò no vedevo poco però come ho detto fevo la doppia tante volte e allora veniva da mezzanotte e quindi sempre stavo aspettando veniva nero finché vedevo arrivare sta macchina perché ho sempre paura che succedesse qualcosa ma è tante volte proprio se che era l'occasione lo fevo dopo prepara da mangiare quando andava a dormire la mattina alle 5 avanti ancora e allora che fanno io fevo i cani gli fevo il ministro di verdura perché aveva una sostanza da poter mangiare perché solo pane e sandwich come chi dice la mia e poi fevo il spezzattino fevo l'arosto e così poteva scaldarsi e no che l'era poteva scaldare la roba e basta e dopo quando veniva la sera fevo cena e quando veniva tardi era talmente stanco che non mangiava niente veniva sempre preparata domenica era un po' di pulizia che feva perché avevo questa grande terra dopo avevo un po' di galline e se fevo puliva se ne stava davanti e di dietro e se no se partiva a fare un giro a volte veniva a caccia nelle farme lepre cunili perché altro non erano e se no a volte veniva a pesca e a volte veniva con suo fratello anche se no non era tanto andare in giro sì se era bene da girare ma era talmente stanco la festa che non era poco se feva poca a messa mi portava a quella sì la festa sempre in Italia ti puoi spiegare è più bene per dire che ho sempre stato nel paese fino a 32 anni non mi sono mai mossa ho sempre stato lì perché ho sempre avuto un lavoro qui e allora un po' invece un po' all'altro perciò ma era sempre lontano sono arrivata a 32 anni sempre con la scusa che con la mamma è questo sempre con quella che sto a Clis perché a Clis nel mio paese mi fu una famiglia ma la storia si è capovolta e tutti i giorni tutti i giorni arrivava la vita della mamma che ho ancora un pacco così che la mi scriveva quanto mai ti ho lasciato andare queste erano le parole che la mi diceva sempre portami quelle bambine da far vedere ti prego Anna vieni non aspettare che sono morta era sempre mi entra quella entra la nostalgia che è passata era terribile perché la nostalgia ne passa tanta perché in principio mi sono trovata sola ecco il marito partiva tutta lì mi ero sempre niente e ingannata e allora giusto che come dico sempre sta di bene una a allora è l'unico importante cosa è una l'unico è è l'unico 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 è l'unico d'unico l'unico Grazie.